La mostra che è stata allestita ai granai di Villa Minbelli di Livorno è dedicata ad Antonio Vinci Guerra, il T340, ed è la chiave d'accesso all'affilo didattico surrealista dal quale Vinci Guerra ha preso il via. Curata da Alice Barontini, la mostra ripercorre l'arco pittorico del maestro dal primo periodo di figurazione tradizionale fino alle opere della Nuovo Millennio che utilizzano materiali poveri e di scarto. Ma non c'è solo pittura, l'arco creativo di Vinci Guerra viene ricostruito anche attraverso disegni, pastelli, sculture. L'obiettivo è quello di mettere in luce alcune sue tematole della mostra, L'occhio del silenzio, è tratta dalla nome di un'opera di Max Ernst delle millenovatiche costanti, è la scelta di un'arte incentrata sulle riflessioni, capace di proporre un nuovo mondo ideale basato sull'intimità e dando vita a forme che appaiono sempre sospese in uno spazio senza tempo, come le idee che se hanno un valore puro divengono universali ed eterne. La mostra è stata presentata in anteprima alla stampa dalle autorità intervenute. Nell'ultima sala, al primo piano dell'edificio, documenti, foto, cataloghi e manifesti documentano ampiamente l'attività del pittore scultore dagli esordi fino ai giorni nostri.